ed è l'ultima ora la notizia della morte della 23enne veronica manganese scomparsa a pone sacco la giovane è stata trovata senza vita nel canneto del fiume era sul cadavere della 23enne scomparsa nella giornata di martedì è stata disposta l'autopsia che potrebbe essere eseguita già domani dopo l'assegnazione dell'incarico da parte della procura al medico legale l'esame chiarirà la data precisa del decesso e come la giovane è deceduta i vestiti di veronica sono stati ritrovati sull'argine poco lontano dal punto in cui è stato poi rinvenuto il corpo